Un presidio l'ennesimo davanti la provincia in attesa domani di incontrare il provveditore Rosa Grano. I ragazzi del Mancini tornano in piazza e boicotteranno le elezioni anche oggi. Per tutte le iniziative che stiamo prendendo ci organizziamo giorno per giorno, anche perché ci devono arrivare comunicazioni dal provveditorato e quindi ci regoliamo anche in base a quello. Sì, il presidio è fino a stasera, fino alle 8 e staremo qui a farci vedere, a farci valere. Sì, abbiamo cercato di alzare il livello della protesta per far capire alle istituzioni che a noi urge andare a scuola perché dobbiamo studiare. Abbiamo perso già tanti giorni di scuola e vogliamo ritornare tra i banchi, ma non possiamo farlo in queste situazioni dettate nei giorni scorsi dalla provincia e dagli altri enti. Intanto, rileggendo la relazione del professor Petti, si scopre che emergevano alcune fragilità della struttura specie nei solai e nel corpo strutturale della palestra. Il geologo Mazzarotti parla di mancata programmazione negli anni sull'edilizia scolastica e sul caso specifico del Mancini aggiunge. Se si tratta solo di sfondellamento dei solai andrebbe valutata, se riguarda tutti i solai, ma non penso, si poteva anche pensare a una chiusura parziale. Però è anche necessario programmare gli interventi per risolvere queste emergenze nel più breve tempo possibile. Nel frattempo i carabinieri hanno acquisito ulteriore documentazione sulla scuola media Solimena. I militari hanno bussato prima alla porta della provincia, poi a quella del settore edilizia scolastica del comune.